Due ore, prima di me dall'alluvione, dieci e mezza, siamo congiati tra i primi volontari a chiederci cosa possiamo fare. I centri sociali, le curve, tutti quanti hanno fatto il riprendimento alla gara per organizzarsi per andare a spalare il fango. Ho bisogno per un bambino di nove mesi di un kit alimentare. Francesco, non lo metto con questo kit. Vedi, se non ti vanno bene le cambiamo, questo è il settimo e quello è il sesto. Allora, anche coperte e tutto quanto il resto. Che davvero sono stati con noi, si sono sporcate le mani, i piedi, sono gli unici presenti. Abbiamo perso tutto, non c'è niente. L'acqua ha ricoperto praticamente tutto, le macchine e anche i piani più bassi delle case. Non avete mai avuto la paura di non farcela, di gestire tutto? Sì, sì, decisamente sì. E ancora adesso non dobbiamo essere sicuri di avercela fatta. Noi non dobbiamo venire a dire che l'emergenza è finita e che non è finita. Sono rimasto senza cucina, senza macchine, con i mezzi da aggiustare, i trattori. L'azienda è praticamente ferma perché i prodotti facevano un po' di ortaggi per Natale, ormai sono persi. Se tu siete senza acqua? Senza acqua perché poi l'acquedotto qui non c'è, quindi si è andato sotto l'acqua e il gas, eccetera, il bombolone se l'era apportato e quindi... L'azienda di mio marito produce tabacco. Tabacco, un tipo di tabacco particolare che va per il sigaro toscano. L'alluvione ci ha compromesso questa produzione. È stato totalmente sommerso dall'acqua del fiume. Abbiamo cercato di lavarla, di lavare queste sfilze di tabacco e poi le abbiamo appese. Però come potete vedere sta marcendo, sta marcendo tutto quanto, quindi questo è il tabacco che va buttato. Siamo nei locali che la città di Silvelemento agisce sul suo dormitorio. Tu stai vivendo qui da 20 giorni dall'emergenza dell'alluvione. Perché? Qual è la situazione della tua casa? Perché abbiamo perso tutto, non c'è niente. Mi dicevi che ti manca acqua, luce e tutto. Ah, acqua, luce e... E' cassa, quindi non è ovviamente vivibile, praticabile una casa. Ti hanno dato dei tempi entro i quali riuscirai a... Ma per la testa ancora non mi hanno fatto sapere niente, stanno valutando ancora la situazione. Noi siamo arrivati a fare in questi quasi un mese, tra il 15 ottobre ad oggi, praticamente 1143 interventi su 290 famiglie conosciute. La CAIDAS si ha dimissiato un ruolo senza in qualche modo essersi esposta, ne avevano chiesto questo ruolo. Quindi la gente ha riconosciuto la CAIDAS che il momento che la CAIDAS lo ricoprisse quel ruolo lì. E quindi abbiamo dovuto farlo, lo abbiamo fatto perché c'era un secondo che non potevano diregare a nessun altro, toccava a noi e basta. E da lì in qualche modo c'è tutta questa macchina di personale, di volontari, di operatori. Ha interpretato un ruolo sociale che doveva in qualche modo portare avanti, finire da fine in fondo. Che mira alla trasparenza e alla sistematicità proprio dell'intervento, che non deve essere un intervento parziale, ma deve essere un intervento totale e liberatorio per distruggere quello che dice CAIDAS e le strutture di peccato che poi portano anche a perdere la dignità delle persone umane. Il giorno dell'alluvione, il 15 ottobre mattina, non sapevamo cosa dovevamo fare. Non avevamo pale, non avevamo sicchi, non avevamo guanti, non avevamo stivali. Quindi diciamo che quello che è accaduto dal 15 ottobre ad oggi è stato sempre un organizzarsi in base alle esigenze, in base a quello che la gente ci chiedeva di fare. Mi dici più o meno quante richieste al giorno rinnovano? Prima erano tantissime, adesso stanno diminuendo, ma comunque siamo una ventina al giorno, tra mattina e pomeriggio. Le caratteristiche del modello rinnovano sono la prima volta l'idea di un progetto che è stato condiviso con altri, una azione che parte dal basso e non è calata dall'altro, che pasta soprattutto attraverso la lettura delle necessità, dei bisogni delle famiglie, delle persone e poi che mira alla trasparenza e alla sistematicità dell'intervento. Veramente è un qualche cosa che nel sud non si era mai visto. Francesco dove lo metto questo kit? Lascialo lì, dove c'è l'altra già? Qua? Sì, malissimo. Questo kit viene dal magazzino. La famiglia una volta ascoltata appunto al centro d'ascolto sopra e una volta accurata la necessità di avere un kit alimentare di pulizia, di igiene personale o di vestiario, fa una richiesta tramite la dottoressa e la viene a ricevere al punto di ingresso quando è finito l'ascolto dalla dottoressa. Purtroppo è l'altro aspetto che si sta avendo, c'è uno sciacallaggio a tutti i livelli, c'è uno sciacallaggio che è quello dovuto a imprese che stanno facendo dei prezzi al di sopra di quelle che sono necessarie, ma soprattutto lo sciacallaggio di chi da fuori dalla nostra regione sta venendo a sversare materiale che è difficilmente da smaltire. Rifiuti tossici? Rifiuti tossici, sì. Per farla facile? Per farla facile sono rifiuti tossici che molto probabilmente vengono dalla zona della terra dei fuchi. La trasparenza mi ha imposto di chiamare subito in ausilio la finanza per la distribuzione dei fondi e su come noi stavamo operando per la distribuzione dei fondi. Ho voluto questo supporto che non era neanche dovuto, ma l'ho voluto fare proprio per assicurare i donatori e soprattutto per assicurare che il nostro lavoro sia fatto nella massima correttezza e soprattutto nella massima trasparenza secondo lo stile che Papa Bergoglio ci sta dando. Ieri sera, in un bel momento, 20 architetti sono stati qua in casa su mezzanotte e mezza a lavorare sulle perizie che gratuitamente hanno fatto tutte le case delle persone che sono vulnerabili a polizia sociale e che hanno avuto gravi danni con l'alluvione. Noi abbiamo chiamato dei tecnici, dei ragazzi volontari, architetti, ingegneri, geologi che ci stanno aiutando a monitorare i danni nelle case delle famiglie. Questo ci permette di fare una stima concreta dei danni subiti dalle famiglie e soprattutto valutare la spesa per poter far rientrare entro Natale tutte le persone, ognuno nella propria casa. Una fondazione di Milano sta per fare una donazione di 3.000 euro ad un rivenditore di elettrodomestici. Loro versano 3.000 euro, noi ritireremo merce per 3.600. Concretamente significa che se una persona vuole lasciare un bono per una famiglia alluvionata, ad esempio di 100 euro, quel bono varrà 120 euro per noi e questo ci consentirà di moltiplicare la generosità. Perché hai aderito a Rissani Nozze della Caritas? Mi è parsa la maniera più rapida in dolore, tra virgolette, per poter aiutare queste persone che purtroppo hanno perso tutto, quasi. Questo spazio era coperto di giovani, non c'era via gente per camminare giovani nei corridoi, doveva proprio farsi largo tra i giovani. Citando anche una canzone, da soli non si fa nulla, quindi insieme verso un unico obiettivo che era quello appunto di dare il servizio e di aiutare le persone che erano state colpite. Dare una mano e cercare insomma di portare un beneficio alla comunità. Siamo in difficoltà e quindi qualcuno deve dare una mano. Questo è il lavoro che io faccio perché questo è il mio lavoro. Quante volte vieni? Vengo tutti i giorni, vengo tutti i giorni dalle 10 fino a luna che escono i pasti e poi la sera vengo a dare un'occhiata ai ragazzi insomma perché... Il centro commerciale ci ha dato l'opportunità di mettere uno stand e dare alle persone, alla gente che passava, una busta. In quella busta diciamo avrebbe fatto la spesa per gli alliovi anati. Grazie. I volontari sono stati nel giro diciamo di questi quasi un mese 1.300 volontari che sono venuti per la prima volta in Caglia a fare volontariato, quindi persone che abbiamo conosciuto in questa occasione e che di fatto diciamo si sono anche ripetuti in diversi giorni. 1.300 nuovi volontari conosciuti in queste settimane e mediamente una presenza di volontariato nei primi due settimane di 80 volontari e oggi invece parla di 10 volontari al giorno. Grazie a questo esercito di gente che si è in mostra. Come ti spieghi che siamo venuti da voi? Sono tanti. Sì. Come ti spieghi che siamo venuti proprio alla Caritas di Benevento? Probabilmente la gente ci osservava e noi non sapevamo di essere osservati. Me lo devo dire perché è una necessità che sento di ringraziare la Caritas che io non conoscevo. Dal bambino che ha portato il primo giorno alla Nutella, alla vecchietta che ci ha dato i soldi del suo funerale o la stessa azienda che voleva andare via e poi dice apertamente grazie ai volontari della Caritas io voglio ritornare ed assume Marian, un ragazzo moldavo che sta qui in Caritas perché era venuto per dare una mano, questo fa capire che ancora c'è speranza per il mondo. Quella notte ci furono due scosse prima, una alle 11 e mezza e un'altra all'una meno 20 e io ero stanca e decisi di andarmene a dormire in macchina e così mi sono salvata perché la mia casa è esplosa. Io sono beneventana per nascita e mi piace dire che sono aquilana d'adozione perché ho vissuto 20 anni all'Aquila, sono ritornata nella mia città. E adesso fai volontariato alla Caritas? Adesso faccio volontariato alla Caritas e ho un lavoro chiaramente. Sono stata vittima di un terremoto come potevo stare a guardare? Cioè era il minimo che potessi fare. Ciao, sono Miriam. Ho saputo della tragedia accaduta a Benevento. Mi sono dispiaciuta molto, ma so che ce la farete fino in fondo. Cari ragazzi, mi dispiace per tutta quella pioggia. Giuro che farei per voi di tutto per salvarvi. Sono lettere e pensierini dell'Istituto Calasanzio di Frascati e sono arrivate insieme a tre camion pieni, zeppi di ogni ben di Dio. Ciao, sono Nunzia, una ragazza non vedente e con problemi di salute. Purtroppo dal mese di luglio faccio la dialisi tre volte alla settimana. Ho sofferto molto per quest'altro problema, ma con la fede che ho in Dio e l'appoggio della mia splendida famiglia sono riuscita a risollevarmi. Voglio soltanto dirvi, ragazzi, non mollate, abbiate fede, tutto passerà e splenderà di nuovo il sole. Questo piccolo orsacchiotto possa donare un sorriso a chi in questo momento ne ha bisogno.